Ciao ragazzi oggi sono appena entrato dentro lavoravo fuori freddo ho una fame da rumbo e allora cosa mi è venuto in mente subito delle penne al tonno i due i due i due i due i due 10 minuti e il piatto è pronto, i miei cari. Pizzico di sale. Guardate, piccolo, piccolo, piccolo. Guardate, guardate. Due. No? Un altro, dai. Basta. Guardate, guardate. Guardate le mani. Guardate che tonno italiano. Rio Mare. Gengherini bello, baby. Guardatello. Guardatello 한번, misi e un aglio un aglio un cipollotto fresco un bel aglio fresco un cipollotto 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 fresco A presto. 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 guarda che belle tene lisce prima di scolare la pasta prendete un pochettino acqua di cottura giusto in caso perché non mi piace la salsa troppo densa sta perfetta ma sai per essere al sicuro la pasta prendete un pochettino una sciacquadina acqua di calda che spettangolo che spettangolo che spettangolo ne riguardo non è molto importante la pasta prendete un pochettino un test se non mi sgrida qualche d'uno la mia mogliettina la dovete fare questa pasta la mia mogliettina bella al dente come piace a noi come piace a voi questa è una porzioncina per mia moglie mi raccomando no formaggio no pecorino no parmigiano rovinate tutto all'est che non potete fare a meno ma all'est che non potete fare a meno ma Abbastante? No? Andiamo a assaggiare. Un bel bicchiere di vino sardo, Cannonau, è la fine del mondo. Buon appetito alla vostra salute, vi piace il video? Questo piatto è stupendo, datemi un like.